Salve a tutti e benvenuti all'ultima edizione di Gnam, dove la G non vuol dire nulla e il resto vuol dire ben poco. Narrazione agglutinata multimediale, agglutinare, come fondere elementi diversi con il fuoco della narrazione. In questo ultimo numero, bianco e nero, di Gnam, cinque risorse per la narrazione. Un video sul testo narrativo di Alessandra Cicerano, un'applicazione per creare della grafica, una risorsa interessante, una raccolta di tutto ciò che di più interessante c'è in rete sul fumetto digitale nella didattica di Anarella Perra. Un articolo di Wu Ming, che è la prefazione alla cultura convergente di Henry Jenkins, e un'altra applicazione, Fakes Pixelizer, spero si pronunci, che serve per nascondere il viso delle persone. In una fotografia, per esempio, cosa che può tornare utile lavorando nella scuola primaria o nella scuola media, secondo l'essere di primo grado. Tutto rigorosamente in grafica, diversamente bella. Cominciamo dal video di Alessandra Cicerano, prof. la Cice. Si tratta di un video pubblicato sul suo canale YouTube di circa 17 minuti, in cui si spiega che cos'è il testo narrativo. Si tratta di un'interessante introduzione alla narrazione, una sorta di guida sintetica, molto chiara, che introduce alla comprensione di quelli che sono gli elementi costitutivi del testo narrativo, della sua struttura. E quindi che cos'è un testo narrativo, inizio, sviluppo e conclusione, fabola e intreccio, i personaggi, l'ambientazione di un racconto, quindi soprattutto lo spazio e il tempo, la voce narrante, il pove, i vari punti di vista, le sequenze di cui si compone il testo narrativo, e infine alcuni schemi conclusivi. Quindi un testo che può essere anche fatto, vedere agli studenti, alle classi, e anzi Alessandra Cicerano, prof. la Cice, proprio questo scopo aveva. Abbiamo poi un'applicazione che è un vero e proprio ambiente di apprendimento, che io definirei eccezionale, e cioè Genialy. Genialy serve per creare diverse tipologie di contenuti di apprendimento, poster, presentazioni, immagini interattive come ThinkLink, naturalmente grafica, per esempio un poster, per esempio un'infografica, per esempio dei dossier che raccolgono insieme delle risorse, dei contenuti, dei materiali che vogliamo condividere, e così via. In questa mia lunga presentazione, sono 21 minuti, io ho cercato di mostrare le potenzialità di questo ambiente, le sue caratteristiche, le principali procedure e operazioni, le funzionalità, e soprattutto le varie tipologie di oggetti, li vedete qui, che possiamo creare con Genialy, che sono piuttosto numerosi, appunto giochi, quiz, timeline, elenchi, e così via. Chi volesse invece, una breve video tutorial per capire come funziona immediatamente, poi preferisce esplorarlo per conto suo, può trovare qui due video tutorial molto brevi, di 3, 4, 5 minuti, uno di Andrea Maiello e uno di Luca Raina. Una perla da non dare i porci è questa risorsa realizzata da Annarella Perra con un padlet, in questo padlet Annarella Perra ha ordinatamente organizzato una quarantina di risorse che hanno un focus, un tema comune, il fumetto, è il fumetto realizzato con strumenti digitali, con applicazioni per esempio, qui abbiamo per esempio in questa colonna dei webware, quindi applicazioni web per creare fumetti, possiamo scorrere e scegliere quella che preferiamo. Questi invece sono dei software che possiamo installare, questi due sono Comic Life e Comic Strip, applicazioni per dispositivi mobili per creare fumetti ancora una volta come Fantastic in 3D, poi abbiamo degli esempi a cui possiamo ispirarci, esempi di lavori, altre risorse e proposte di attività, fumetti nella didattica e così via, vedete, abbiamo anche la Comic Quest, giochi educativi basati su fumetti. E' veramente molto interessante da esplorare, questo padlet è ricco di suggerimenti e suggestioni. Infine un articolo di Wuming, come abbiamo detto, una prefazione alla cultura convergente di Jenkins, di Harry Jenkins. Lo studio di Harry Jenkins sta alla base di tutti i successivi studi su quella che è la cultura transmediale, e le sue caratteristiche, intelligenza collettiva, transmedialità appunto, e partecipazione. E' interessante quest'articolo perché, vedete, riprende quelle che sono le caratteristiche fondamentali che Jenkins individua, tipiche della cultura attuale, della cultura dei media attuali, quindi il carattere innovativo, la convergenza, la quotidianità, l'interattività e così via. Qui sono individuate e spiegate abbastanza bene, ma soprattutto i tre problemi chiave dei nostri studenti, bambini o adolescenti che si siano, come partecipare, la trasparenza e soprattutto l'etica, il problema etico, che non è solo un problema di cyberbullismo, ma è un problema di come comportarsi in rete, inteso questo in senso ampio. E' un invito questo di Wuming, ma anche quello di Jenkins, alla scuola, alle istituzioni informative, di preoccuparsi di quelle che sono le competenze digitali, dove competenze significa appunto una riflessione che insieme sia conoscitiva, pratica e pragmatica, ma anche etica. Quindi un'introduzione veramente molto bella. E infine Face Pixelizer, sperando che si pronunci così, che funziona in modo molto semplice. Dovete trascinare qui un'immagine per poi nascondere le facce. Io adesso la trascino, io ho due schermi, ecco qui, una classe d'altri tempi, tutta rigorosamente maschile. Come funziona? Bene, vedete questo menu può funzionare o in automatico o manualmente. Io gli dico adesso di pixelizzare, di nascondere, insomma, rilevandole automaticamente le facce di questi ragazzi. Vediamo se funziona. Vedete che ha funzionato perfettamente. Poverini, questi tre, questi quattro, non li ha riconosciuti come volti umani. Provediamo allora manualmente a pixelizzare. Ecco, lasciamo la misura dei pixel, vedete, possono essere più o meno grandi. Lasciamoli così, in modo che non si capisca, e poi semplicemente selezioniamo. E come vedete, i visi di questi poveri ragazzi, per quella che secondo me è un'ingiusta concezione della privacy, vengono cancellati. È una cosa molto triste. Possiamo vedere, e vedete anche, selezionare solid, e avremo quest'altro risultato, oppure blur, qui si vede troppo, e avremo un altro risultato ancora. Ah, ci siamo dimenticati di lui, voleva scamparsela e rimanere se stesso, e invece, poverino, verrà annullato anche lui. Quindi, come vedete, è molto semplice da utilizzare, dopodiché, quando ho finito di lavorare, posso salvare l'immagine e scaricarla. Ed ecco quella che ho chiamato classe antica, come vedete, è salvata. Cancellando i volti. Concludo con questa massima. Do it yourself. Fate da voi, ma non fate da soli. Arrivederci e buona giornata. Buona giornata. Grazie.